Leonardo Pulcini, giovanissimo, hai raggiunto già traguardi ragguardevolissimi. Cosa consiglieresti a un giovane che sogna di arrivare dove sei arrivato tu? Comunque io ho fatto tanta strada per arrivare al livello dove sono, ci vogliono molti sacrifici, non è uno sport e basta, per arrivare a certi livelli comunque diventa un lavoro, devi sacrificare tutta la tua vita. Io ho messo da parte la mia adolescenza per concettarmi su questo sport e grazie anche a certe persone che mi mandano avanti io faccio questo. Quanto conta la presenza di uno sponsor che ha fiducia in te? La maggior parte è una cosa molto importante e comunque senza un supporto economico è veramente difficile andare avanti. Si parla dell'importanza della telemetria. Quanto conta per il buon andamento di una gara il risultato, le osservazioni e l'analisi dei dati telemetrici? È una delle cose fondamentali che devi avere in pista, è una cosa molto importante soprattutto confrontare anche se hai un buon compagno di squadra e vedendo la telemetria al computer comunque puoi cercare di migliorare te stesso in ogni singola curva e anche prendere spunto dal tuo compagno di squadra vedendo come fa lui e cercare di farlo per andare meglio. Leonardo, un tuo sogno? Quello più immediato? Formula 1 E noi ti facciamo un grande in bocca al lupo! Grazie a te! Grazie a te!